risate scherzi giochi ma all'improvviso l'imprevedibile urla pianti disperazione perdita di controllo preoccupazione ansia timore ospedale medici che di fronte a sintomi e problemi clinici oscuri non riescono a dare una spiegazione allora ecco la paura l'impotenza la lotta ma anche la speranza la speranza di poter riprendere in mano la propria vita grazie 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 grazie